Bentornati, oggi vediamo la risoluzione di un problema di cui probabilmente conosciamo tutti la soluzione su InDesign, ma forse non tutti la conosciamo su Illustrator. Come si crea una riga con i puntini esattamente della dimensione della colonna? Il compito che mi è stato assegnato oggi è quello di replicare questo documento di cui ho soltanto la foto della fotocopia, per cui ho ricopiato il testo all'interno di un documento. Adesso devo andare a ricreare queste righe, dopo penserò alla spaziatura e a tutto il resto, ma quello che mi interessa è farvi vedere questo passaggio. Ne ho già fatta una, adesso quello che vado a fare, vi voglio far vedere come è stato fatto, per cui vado da testo a selezionare Mostra caratteri nascosti. Come possiamo vedere qui c'è una tab. Adesso, se non avete la tabella delle tab aperte, quello che dovete fare è andare su Testo e aprire Tabulazioni, oppure questo è il comando da tastiera. Il pannello che si apre è questo. Ora, questo pannello si sposta. Nel momento in cui io mi posiziono e premo il comando da tastiera, lui si mette esattamente sopra la mia colonna. Quello che succede adesso è che io mi posiziono sulla riga dove voglio mettere i puntini. Creo una tab, quindi digito tab sulla tastiera, se no non funziona. E dopodiché quello che devo fare è che la prendo e la sposto qui su questo righello e vado a posizionarmi proprio alla fine. Ora qui io avevo già selezionato un carattere di riempimento perché avevo già fatto la riga sopra. Quello che ho selezionato è un punto. Io potevo selezionare un underscore e mi avrebbe riempito la riga con degli underscore. Potevo fare... potevo fare punto underscore punto e me l'avrebbe riempito in questo modo. Posso inserire pressoché qualsiasi cosa qui dentro e lui mi va a riempire lo spazio occupato dalla tab con quello che io gli ho detto. In questo caso a me basta un semplice puntino. Questo procedimento ripetuto per ogni singola riga mi darà alla fine esattamente il risultato che voglio ottenere. Ora vi starete domandando ma quindi bisogna rifare questo procedimento per ogni riga? Beh in realtà no. Infatti esiste un trucco. Nel momento in cui io vado a selezionare tutte le righe e vado a ridimensionare vedete che le sta prendendo tutte. Qui a questo punto è sufficiente che io faccia semplicemente una tab digitando dalla tastiera al termine di ogni riga e io le ho già create tutte. A questo punto posso selezionarle tutte e andare a posizionarle dove voglio. Ovvero qui in questo modo sono tutte uguali. Poi se vado a lavorare su altre righe posso ricordarmi questo numero e in questo modo vado a inserirlo nella prima riga e ricomincio da capo però in questo modo ho finito di mettere i miei puntini sulla riga in pochissimo tempo e oltretutto si adattano automaticamente alla riga e quindi non devo stare a digitarli tutti a mano che poi fa schifo e se dovessi cambiare una parola qui mi creerebbe problemi. Invece in questo modo io qua posso scrivere e la mia riga si adatta da sola. Infatti vediamo adesso come si applica lo stesso procedimento a queste righe. Queste righe che sarebbero queste quindi bisogna fare una due tre quattro e cinque righe quindi una una e digito tab due tre quattro cinque eccole qui. Vado a selezionarle tutte tutte, ritiro fuori la mia tab, il puntino è sempre selezionato e vado a posizionarmi ed ecco fatto. Qui cosa andrò a fare? Digito tab uno due tre quattro, seleziono tutto e vado a posizionarmi alla fine ed ecco fatto. Qui cosa andrò a fare? Digito tab uno due tre e quattro, seleziono e mi posiziono alla fine, ecco fatto. Avrei dovuto controllare che questi numerini siano tutti uguali, dopo andrò sicuramente a verificare questa cosa perché come vedete non cascano tutti perfettamente uguali, però questo è il procedimento.